Se funziona RANTON Sì funziona Stiamo più avanti Tutto dritto Tutto storto Telecamera a posto Ok iniziamo subito Verbi fare Tutto storto Perfetto Ok suru doshi Che sono i verbi fare Suru doshi Doshi Verbi fare Allora uno Yowai cimo Yowai cimo Meglio se scrivo i numeri Perché almeno mi accorgo se li salto O o en suru Fare il tifo O en Fare il tifo Questo ve lo scrivo giusto per sport Fare tifo Pifo Poi Alex Oh io Massi Buongiorno C'è Massi Gio scusa Sono fuori di testa Ho letto Gio Ho detto Massi Non so per quale O Kugi Buongiorno Per dirti come sono sveglio Kujikara Kujikara Gai Chi magari lo vuole vedere Uscire e andare fuori Andare fuori Mi dispiace Anche a me Anche a me Che non mi sono arrabbiato come una bestia Fortuna che Torra c'era Quindi va bene Per fortuna era solo un sogno Hai sognato un varu yinuro Waru yume Esatto Waru yume è incubo Waru yume è destra Sekai de katsu yaku suro Sekai de Katsu yaku suro Qua dice essere attivo in tutto il mondo Ma katsu yaku Essere Come si dice in italiano Fare attività in tutto il mondo Katsu yaku Metto essere attivo in tutto il mondo Esibirsi No essere Mettiamo essere Lo scrivo come è Però Fa schifo Essere attivo In tutto il mondo Fare i numeri Non lo so Dipende da Poi da che cosa E chi quando Quattro Oya Oya ni Kansha suro Ringraziare i genitori Questa è una delle parole Che uso sempre Quando la vedo Non mi ricordo mai come si pronuncia Kansha è ringraziare i propri genitori Essere grato Essere grato Poi Cinque Care Care A proposito Lo sai che Tag gps da mettere nel collare dei gatti Così se scappa Lo puoi ritrovare No il gps ce l'ha ma non so se serve per So che c'ha il chip Non so che chip c'ha Però ce l'ha il chip Però non so che tipo di chip ha dentro L'aveva messo la veterinaria Kansha suro Kansha suro Ammirare Ammirare Ammiro il suo impegno Poi serio Il chip serve per sapere chi è il padrone Se viene ritrovato Eh se viene ritrovato Però se non lo ritrovano Ok E quello è il problema Ega Ega Uo Mi te Kansha suro Mi sono emozionato guardando il film Mi te Kansha suro Aiuto mi va via Oggi Anche oggi mi va via la voce Che cacchio Anche ieri mi andava via la voce Mi te Kansha suro Pensavo di essere migliorato Invece Se sto ripeggiorando Oh eh niente Mi va via la voce Vado a bere l'acqua Anche se non c'entra niente l'acqua Mi va proprio via la voce La mia bellissima voce Vedete che do l'acqua Anche a tora Anche a tora Per i sette Sette te Ciao Rabi Minnade Chiorioku suro Collaborare fra tutti Ah quello è comodo Quello è comodo Allora mi informerò Chiorioku 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 Ora cerco il link e te lo mando Grazie Può operare Kando è Emozionarsi Emozionarsi Non so per quale motivo Non so per quale motivo Comunque vai Katsuyaku suro Essere attivo All around the world Questo qua è Kansha suro E ringraziare Kanshin suro E ammirare Questo qua me li confondo sempre Kando suro Emozionarsi È scritto così Kando Sì E Dorioku E impegnarsi Poi ho 8 Voi che sono molti di più di questi qua I perbi suro Però Cioè te ne mette E niente La voce mi va via lo stesso Allora che si è bevuto Addio voce Osei Osei No mai Dei Davanti a tante persone Dei Kinshio suro Essere timidi Davanti a tante persone Emozionarsi Non puoi ammettere Essere nervoso Mannaggia Non è essere nervoso Essere imbarazzato Allora Kinshio No Evo Passerà È da ieri Che Essere Cos'è ha detto Imbarazzato Imbarazzato Puoi 9 Vuole le prove Bioin Ospedale Bioin Bioin De Kuashiku Kinshio suro Fare un esame dettagliato in ospedale Esaminare Kinshio suro Esaminare 10 Intanto Tora sta girando su se stesso impazzito Tora che c'è Impazzito Punto Kinshio suro Non mi sembrava eccitato Kinshio suro Tipo Non mi sembrava eccitato Non me lo ricordo come eccitato Aspetta che lo guardo Kinshio suro E invece Essere Emozionato No Non è emozionato Emozionato E no Eccitato Agitato Stimolato Vabbè Emozio Cos'è che ho detto Non mi ricordo Eccitato Anche se mi si mazza Come parola Tipo emozionata Comunque Intendo 11 11 Pati Pati La fuesta La fuesta C'è scritto sotto Pati Ce ne sono diversi tipi Sì 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 Tu Link Che dopo riguarda Grazie Eccosi Diversi Classico L'importante Che no Mettimene uno Per farmi capire Poi da lì Li cerco Sto parlando Con Joe Che mi sta scrivendo In dettaglio Questo mi sembra buono Ok Grazie Grazie Joe Patini Sanca Su Partecipare La festa Sanca Su Partecipare Sanca Partecipare 12 Prego No grazie a te Allora Tamani Tamani Eh questo sarebbe palla Ma Tamani E ogni tanto Zanghio Zanghio è quello lì Straordinario Lo sbaglio sempre Ogni tanto faccio straordinario Zanghio Lo confondo con saghio Straordinario Straordinario Fare straordinario Straordinario Fare straordinario Verbo fare Allora Zanghio Poi abbiamo 13 13 Os Kovareta Rotta Kovarekakeno radio Kovareta Kuruma La macchina rotta Animo Animo Kovarekakeno radio Animo Kovarekakeno radio Ottonani Kovarekakeno radio Shuri Suru Riparare Shuri Shuri Riparare Riparare la macchina rotta Aggiustare Come volete 14 Raishu La prossima settimana Raishu Osaka Osaka Ni Shucho Viaggio Trasferta Di lavoro Trasferta Lavoro Poi Raishu Osaka Ni Shucho Suru Settimana prossima Adrò In Trasferta Lavoro A Osaka Allora Se chiamiamo Queste robe qua Ta 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 Questo è Shuri Questo è Zanghio Questo è Sanca Questo è Kofun Questo qua Non me lo ricorderò Questo qua È quello di Chiovi Però si dice Kofun È quello di Chiovi Non è quello di Chiovi Uno Chiovi Sì è quello di Chiovi Come fa a diventare Kofun Non lo so Kofun Questo qua Non me lo ricordo Se lo vedo Soprattutto Questo qua Non lo so Questo qua Sì L'altro Non lo so Kofun Kensa Cioè Se leggendo la frase Ci arrivo Kensa Kinchio Anche questo qua Sbaglio sempre Perché lo so Perché questo lo so Ma questo no Kinchio Cioè So il significato Ma quando poi lo vedo scritto Non mi ricordo qual è 15 E quindi Studiare per imparare Kusuri Usi la medicina O Chio Chio Soro Tocchi Cui Quando usi la medicina Stai attento No Cui Precauzioni per l'uso Basta che cerchi Tag GPS Cat Ok Grazias Non sapeva che esisteva Che link Che link Ok Grazie Sio Per chi non è Sto parlando con Gio che mi scrive Su In privato Io lo vedo Nei messaggi Sio Soro Usare Modo d'uso Sarebbe usato Poi 16 Ripana 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 Otona Ni Seicio L Ho trovato Su Amazon Sì sì Grazie Grazie Seicio Soro Ma si deve installare Dentro il corpo Del gatto Non collare Qualcosa Ripana Otona Ni Seicio Soro Crescere Come una Una Persona È un collare È un collare Eh sì Il problema è che Torra se lo toglie Seicio Soro Crescere Beh se andiamo in zone Tipo quando lo porto in Giappone Sono anche più piccoli No no va bene Va bene Poi mi informo Grazias Crescere Non è svilupparsi Crescere Come una persona Cioè come un adulto Come un Ripana È Un buon adulto No Seicio Crescere La lunga distanza Sì sì No no Poi la più lunga distanza Se scappa Poi so Cazzi Sì sì Grazie Poi adesso Li guardo tutti Visto che poi Ho avuto sto sogno Qua Solo che Il problema è che Lui se Anche l'altro Una volta che gli aveva Messo il collare Se lo toglieva Se lo grattava 17 Ikidashi Ikidashi Dovrebbe essere Il cassetto Ikidashi Se non sbaglio Nonaka Seiri Solo mettere a posto Il cassetto Se dentro Il cassetto Seiri Solo mettere a posto Dice organizzare Ma è mettere a posto Seiri Seiri Che quello Significa anche Un'altra cosa Però non ve lo dico Seiri Mettere a posto Poi 18 Perché sono Una persona educata Se gli metti Quello a bratella È più difficile Da togliere Eh sì Perché lui Con il collo Se lo tira via Finché se lo Lo toglie 18 Maizuki Vedi qua Dice maizuki Io invece Schrivo maighetsu Perché sono stronzo Perché è tanto La stessa cosa Ichiman 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 Ciokinsuro Ciokinsuro Metto via Ciokin è Tipo salvadanare Io metto i miei sogni Ciokinsuro Poi mi metto Salvare Però Metto via Mettere via Ciokinsuro 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 Sì è sempre quello Però c'è gente Che rompe il cazzo Che si dice Eh no Si dice Come si chiama Si dice Ma non riesco più A scrivere Ciokin Così No Oh mio Dio L'ho scritto prima È così Come si vuole Salva Salvadaianare Esiste Mettere Via I danè Ciokin è Salvadanario Ciokinsuro È salvadanaiare Ma non esiste In italiano Mettere da parte Risparmiare Mi piace di più Il tuo risparmiare Ok Dicenove Ciumon Ciumon È ordine Ciumon O Zuikasuro Aggiungere un ordine Zuikasuro Zuikasuro Aggiungere Salvadanario È per bambini Eh io Io conosco solo Il Che si chiama Il Linguaggio Per i bambini Mangio anche Come un bambino Teishutsu Teishutsu È un'altra parola Che mi è sempre confuso Con la fessura Esatto Quello lì Ma io Quando Ciokin Ma il Ciokin Ciokin E metto Immagini Mi esce Il salvadanario Vedi Se tu cerchi Ciokin Io ho messo Solo ciokin Esce proprio Quello Che il maialino Che mettono i soldi Dentro È proprio Quello Ciokin È proprio Il maiale È inteso Così Cioè È inteso Mettere i soldi Nel maialino Allora Ciokin Tsuru Teishutsu Non me lo Sai che Teishutsu È un altro Che mi sbaglio Sempre Teishutsu Cos'è Qua mettere Com'è che si dice Mi viene in italiano Pensa Mi hai fatto Venire in mente Che mi hanno regalato Una macchina Della polizia Giapponese Come salvadanaio Bella Come cacchio Si chiama Non mi viene in mente La Lo cerco Non mi viene C'è una parola Diverse Che non mi viene in mente È tipo Ci sono anche altre forme Di Teishutsu Altre forme Dettagli Aspetta Che c'è qualcosa Di irregolare Kanjusato In modo Irregolare Ma la Anata Anata Ma con Istento Da che Anata Teishutsu Si maus Significa fare O presentare Anche Teishutsu Teishutsu È scritto Applicare Applicare Per me Per me Che non partecipa Invece Partecipa Mi confonde Perché il kanji Non corrisponde A quello che Significa Atarashi Almeno per me Quel kanji Lì è quello Di uscire Sottomissione Sottomissione No ma Sottomissione È brutto Cioè Inteso come Presentare Cioè nel senso Vedi Presentare Il report Entro la data Di scadenza C'è una cosa Checao No Atarashi Shurui I nuovi documenti Atarashi Shurui E cangimi da quello Eh lo so Però è sbagliato C'è del senso In inglese lo traduce così Infatti l'ho cercato Perché è sbagliato Se invece Lo cerchi su Giscio Ti dà Presentazione Submission Anche applicazione Applicare A report Eccetera Eccetera Eh Produrre Introdurre Compilare Significa un sacco di cose Hai capito Non è che Non ha un significato solo Dipende Qua in questo caso È presentare Perché Cambia Significato In base A che cosa Stai facendo Atarashi Come al solito Esatto Il problema È capire Quello giusto Nella frase Atarashi Shurui O Shurui No è giusto Shurui No Ah Shurui È tipo Shurui No Sakanao Akken È trovare nuovi tipi di pesce Scoprire Shuru Akken Soprire Poi 22 Che è tutto regolare È diverso È diverso È regolare Okoku È dire Pronto Grazie per la sub Thank you very Grazie Waiosan Ho visto che hai scritto Kanpai con la M Ti volevo picchiare Ma poi ho detto Vabbè Spero che abbia bevuto Prima E quindi magari Era ubriaco Lo perdoniamo Che è KO Okoku Suru Esattamente Bravo Menti sapendo di mentina Okoku Okoku È dire Portare un messaggio Sarebbe Portare Messaggio O dire Dipende Okoku È avvisare Avvisare del risultato Ho detto L Iragana E ho corretto Sì ho visto Anche perché La M da sola Non esiste Quindi è impossibile Che c'è scritto Kanpai Con la M È kan Kaseo Yoho Suru Difendersi Dall'influenza Kaseo Yobo Cioè prevenire O difendersi Prevenire Dipende Come vi piace di più Qua in te L'influenza Quindi è inteso Come prevenire Yobo Simone O Shimone Esatto Shimone Shimone Yobo O Suimone Perché dipende Da come lo scrivi Perché il problema È che se scrivi Simone Io ho notato Sta cosa qua Anche Shimone Prevenire Se tu scrivi Simone Se tu scrivi così Shimone Buongiorno a lei Weisora E se tu scrivi Shimone I giapponesi Leggono Shimone Ma se tu scrivi Come ti chiameranno I giapponesi Se tu invece scrivi così Simone Così leggono Shimone Così leggono Shimone Così è Shimone Naturalmente in katakana Se lo scrivete così Se lo scrivete così Leggono Shimone That is the problem Allora Prevenire L'influenza 24 Combini Scrivi Shimone Scrivi In che senso Scrivi Simone Con i caratteri giusti Sui Io scrivo Su Dovete scrivere Su Limone Su Limone Non lo sto al piano Esatto Scrivi Su Limone E loro leggono Simone Questo perché la U Non si legge qua E diventa Si E come Te Te I Che loro scrivono Te Li Perché il Te non esiste Questo lo leggono T Questo qua è T Perché non leggono la E Qua non leggono la U E diventa Si Cioè lo pronunciano proprio Si Al posto di Si Mister Gio Albero Elettrico Mi chiameranno Mi piace il kanji Dell'albero E dell'elettricità Mister Gio Albero Elettrico Mi chiameranno Mi piace il kanji Dell'albero E dell'elettricità In che senso L'albero Dell'albero Non ho capito Proto Cosa stai dicendo Qual è Chi Chi Elettricità Ma non significa niente Questo Eh ma non significa nulla Questo così Esatto Eh ma non significa niente Comunque Ti piacciono i kanji Proto Ascolta Dopo lo facciamo Prenditi Sto coso qua Che è quello che uso io A parte quel So te lo metto qua Mi si è bloccato il sito LOL IPSG Show Org Word E68 F90 E587 BA Ok guarda cosa A livello estetico Sì sì no A livello estetico Sì guarda questa cosa qua Allora Oggi Dopo è una cosa Che Sì quando facciamo Ripasso Finita l'elezione Se abbiamo tempo Guardiamo tutti i kanji Se tu clicchi sul kanji Di fianco Qua Se tu clicchi A parte che te lo fa vedere Se lo trovi Stampato così O stampato così E poi c'è questa cosa qua Che ti fa vedere Come lo devi disegnare Così Vedete come si scrive Ok così Mano a mano Tutti i kanji Che trovate Vi prendete Sta cosa qua E ve la Ve la studiate Voi non è che lo dovete Vedi che lui lo fa In quattro quadretti Per di solito Prendete un quaderno Con i quadretti In quattro quadretti Scrivete il kanji In grande All'inizio si fa così Io poi Inizio a scriverlo In un quadretto solo Però all'inizio Lo scrivo anch'io In quattro quadretti Grande Peccato che non ci sia Sui kana Ottimo Beh il kana dai Non serve No il kana penso che c'è Quindi Non lo so Scrivo K e basta Vediamo se esce Beh sul kana Non c'è perché Non serve Più che altro A parte che non c'è Niente il kana In katakana Non è l'ho trovato Aspetta Farò vedere Come lo dà Vabbè metto che Se io clicco su che No non c'è Non te lo fa Non è un kanji È un Però boh Perché boh Il katakana Viene da sé Io non ho mai studiato Il katakana E lo so Sì Cioè perché È molto simile All'iragana Cioè qualcuno è diverso Ma non è che Di starla e studiarla Fuori di leggere La tana cento volte Lo impari Anche qua c'è scritto Ma per i principianti Sarebbe utile Eh ma il problema È che Allora per i principianti Confondi Perché già l'iragana È difficile Se gli metti anche Il katakana Insieme da studiare Gli incasini Perché poi ti confondono L'iragana con il katakana E allora il mio professore Mi diceva No tu studi solo l'iragana E poi il katakana Ti viene dopo Fuori Perché Io qua Non è che l'ho studiato Però so che combini Loro chi? Combini o Riosu Usare il combini Loro chi? I giapponesi Sì lo so Però Noi siamo Cioè Noi siamo Tu devi tenere conto Che noi siamo abituati A vedere questi caratteri qua E per molti Se gli dici Guarda queste cose qua Ti dicono Sono dei disegni Sono dei geroglipi Ci non capiscono Che è un carattere Capito? Fanno fatica Ad associare questo A un carattere Lo vedono come un disegno E quindi Dicono Devo imparare Tanti disegni Ed è un casino È più facile impararne Una alla volta Solo per un discorso Di non fare casino Perché poi c'è il rischio Che magari Al posto di scriverla N Normale Al posto di scriverla N così Me la scrivono così O come lo scrivono Imparano così Al posto di così Fanno un mix So già che viene fuori Un mix Perché io conosco Gente che studiava Che scriveva I mix Io invece So che quelli arrotondati E l'iragana E quelli triangolari Più o meno Sono i Che poi scusa Co Co E co Adesso Ho beccato proprio L'unico stronzo Cioè Uguale Al contrario Cioè Ti viene già La n Più o meno Ti viene già Ni e ni E basta togliere i segni Ni e ni E basta togliere il segno qua Cioè È praticamente Lo stesso simbolo Più stilizzato Cioè più triangolari Però buono Poi a furia di comprare Videogiochi scritti In katakana Si sono squadrati In katakana Esatto Allora Proviamo a fare Questo esercizio Che non mi ricordo Neanche cosa ho scritto Però molto bene Un po' Abbiamo fatto 24 verbi Sono giusti Anche ieri ho sbagliato Una cosa Che ha detto Questa qua Io metterei questa cosa Ma non l'ho studiata Quindi Cioè non l'ha messa Nell'esercizio Quindi non è quella Invece avevo saltato la riga Come il mio solito Gitensha Gitensha la bicicletta C'era E infatti era giusto Quello che avevo detto io Senza guardare Però ho detto Nell'esercizio non c'è Quindi non sarà quello Gitensha Gakko Waretta Nodè Visto che mi si è rotta La bicicletta Waretta Nodè Questo libro qua Praticamente sono Canarita da sci Canarita da sci Sono delle Delle correzioni Cioè Uno studio da fare Prima dell'esame Cioè un ripasso veloce Diciamo Delle cose diciamo Più probabili Che ti escono Scusate se non ci sono Stato intervento Tecnico Venerdì Ufficio Twitch Non vala E ieri E ne stavo bene Ma è tranquillo Non sei obbligato Se ci sei A me fa piacere E se non ci sei Non importa Cioè nel senso Non importa Va bene Come lo stesso Non scappo Cioè non è che È un obbligo Se non viene Ti picchio Se fa Vi piacere Avete tempo Va bene Però ognuno Ha i suoi tempi Io non ho lavoro Magari uno Lavoro alle sue cose La famiglia Cioè Che mi dispiace Perché imparo Sempre qualcosa Eh beh Quello sì Beh però Le lezioni rimangono Puoi recuperarle Quando vuoi Giù un band Non mi esce Perché non mi esce Dai giù Vodessu Simone Anche io Per impegni lavorativi Non potrò essere presente Giù un band Dai giù Bu dai Non ti preoccupare Va tutto bene Allora Giù un band In ordine Mosugu Mensezuno Giù un band Gakuru Diranno l'ordine Delle Del Mensezuno Potrebbe essere Com'è che si dice O intervista O Quando fai Il colloquio di lavoro To O Motu Se penso Che tra po' Ci chiamano Per l'intervista Kinchio Suru Mi Non è Mi Emoziono Mi Non è Neanche Imbarazzo Come si dice Mi Kako Sotto Stesimano Che non mi viene La parola Italiano Comunque Dovrebbe essere Kinchio Agito Mi Agito Bravo Agito Agito Kamen Rider Agito Sì 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 Giusto Mi agito Prima sopra Ho messo Emozionarmi Cos'è che ho messo Eccitato No Partecipare Kinchio Cos'è che ho messo Mi sento Imbarazzato O agitato Siamo anche agitato Agitato Ci piace di più Bravo Mi veniva la parola Tre Che è sempre il problema Anzi Proto Tu devi venire Aiutarmi Perché io non so L'italiano Eccitato Forse con Chibuya No Eccitato 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 No Ammirare No Qual era Eccitato Non mi ricordo più L'ho fatto prima Aspetta Non me lo ricordo più Eccitato Cofun Cofun Sì sì Cofun Cofun In italiano Alex Esatto Dovete aiutarmi In italiano Io vi aiuto In giapponese Ma vedo Aiutarmi in italiano Tipo adesso Quella parola La so benissimo In giapponese Cosa significa Però non mi veniva agitato Tomodachi Amicici To Con gli amici Con amici Oenshte Itotsu no Sakui no Tsukut no Kyorioku Ste Ci siamo messi Tutti insieme Appassionatamente Kyorioku Ste Abbiamo cooperato Con gli amici E abbiamo fatto Itotsu no Sakuin Abbiamo fatto Un prodotto No Sakuin Sakuin O opera Dipende O Tsukuri Egetai Abbiamo costruito Un'opera O fatto Un oggetto Sakuin Significa più cose Quindi non lo so Quattro Kodomotachi I bambini Kodomotachi Kodomotachi Wa Sannenkan Per tre anni Comunque Cioè Sannenkan Noti che Quello che stiamo facendo Qui Cioè Quello che faccio io qui E quello che stanno facendo I ragazzi Nell'altro libro Ci sono le stesse Ci sono le stesse regole Le stesse robe Infatti Se si fanno bene Le basi Poi è facile Se non fate bene Le basi È un casino Io tipo Qua non sto studiando Però le so Cioè Sannenkande In tre anni Nel senso che Okiku E ok E togli Q Diventa Cioè Togli lei Diventa Q Tutte cose che abbiamo fatto Okiku Seicio Sta È cresciuto Il bambini Sono cresciuto In molto In tre anni Seicio Seicio Sta Cinco Camikop Camikop O è il bicchiere di carta Dovrebbe essere Camikop Camikop O Cio Rioste Cio Ste E usare Rioste E usare E qual è In questo caso Mi incula Perché mi dice Sciosuru E usare Rioste E usare Che differenza C'è tra Quando usi Uè Massi Buongiorno Qua abbiamo il problema Di quale usi Vi piace di più Scios O Rioste Massi Camikop O Scios Ste O Mo Ciao Tsukuta Ho usato Cioè Il significato lo so Usando Un 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 Cos'è Un bicchiere di carta Ho costruito Un giocattolo Ciao Protogenesi Però Rioste Sciosuru O sciosuru 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 Non so se mettere Rio o scio Quest'anno lo so Cioè nel senso Per me sono giusti Tutte e due Anche perché sia scio Sia scio Che rio Rio Ti piace di più Perché sia scio Che rio Significano usare Tutte e due La frase è Con un Con un bicchiere di carta Ho usato un bicchiere di carta Per fare un 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 giocattolo Rio Mi fido di lei Per me sono giusti Tutte e due Tutte e due Io sbaglio Perché per me sono giusti Tutte uguali Rio Ah te l'ha detto Questo cacchio Comunque anche ieri Sono venuti altri miei amici Giapponesi a sorpresa A casa E mi hanno portato Una pizza E abbiamo mangiato insieme E gli ho detto Ma mi dite Cosa significa Che cosa significa A sodo E loro mi hanno guardato E hanno detto Ma sodo che? Sarà soco Che ho detto La stessa cosa Anche io Quel libro è sbagliato Fidati Sei Kyo A sodo Non esiste proprio Kyo A Gai Shutsu Era una domanda Come è scritto Rio K Ah Rio Ah scusa Rio è scritto così Qua la domanda È Shio E Rio Allora Sono tutte e due È scritto con lo io grande Ri Io U E l'altro è Shio E sono Signorano tutte e due Usare E quindi Kamikappo Rio Ste Omo Ce Otsukuta Kamikappo O Shio Ste Rio Ste Suona meglio Diciamo che suona meglio Infatti mi ha detto Che probabilmente È stato un errore Di battitura Esatto Sì ma quattro volte No cinque volte L'hanno battuto Sbagliato Guarda Figa Chio Gai Shutsu Shinaide Chio Però non aveva sotto mano La frase copia e incolla Eh sì È un copiato e incollato Come faccio io Che copio e incolla Cambio solo l'interno Senza riguardare Sì ma Visto che è un libro di testo Quattro volte Di coprire il copia e incolla Esatto Sì 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 Però In quattro volte Non l'hai mai riletta La frase Cioè in cinque volte Totale Gai Shutsu Shinaide Oggi non esco di casa Ieniro Tsumori Penso di stare a casa L'altra invece Oggi non vado Al lavoro Al viaggio Di Di trasferto E sto a casa Non lo so Lo scoprirò dopo Chiosa Chiosa La ricerca Oggi Chiosa Perché esce così? È giusto Chiosa Devo solo spiegare di più Checca Il risultato della ricerca O Okoku Avvisare O dire a qualcuno Okoku Shinakere Banaranai Shinakere Banaranai Devo dire Il risultato della ricerca Otto Oya 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 I parenti Kansha Kansha Ringraziare Kansha No Kimo Chi Kanshin Kanshin An ammirare Kanshin No Kansha No Kimo Chio Tsuta Eta Kanshin No io mi direi Kanshin Però magari Kanshin Però mi piace più Kanshin Come parola Kimo Chio Tsuta Eta Tsuta Eta Qua c'è Ho ringraziato I miei genitori O Dicendogli Dei sentimenti Di ringraziamento O Dicendogli Dei sentimenti Di ammirazione Per me è Kanshin Lo scopriremo tra poco Nove Padhi Pateri Ieri ne ho sbagliato Una marea Parteli Oh non so più scrivere parte Cioè lo si è scritto sotto Po To Pati Ni San Kasuru Per partecipare alla festa San Kasurito Wa E tra poco facciamo gli aggettivi Quindi preparateli E voi dite Ma scusa Fai gli aggettivi dopo vent'anni E noi li abbiamo fatti l'altra volta Sì ma te li fari fare comunque Perché quella è la prima fase Poi arrivano altri aggettivi Poi altri aggettivi Poi altri aggettivi Poi altri aggettivi Poi Che Allora Kaseo Yobo Questo è per prevenire l'influenza Kaseo Yobo Ah no Partini San Kasurito Wa Merus Tekudasai Chi vuole partecipare Alla festa E mi mandi una mail Kaseo Yobo Surutameni Per prevenire l'influenza Surutameni Masku Cioè Guarda che sono avanti Questo libro è uscito prima Della Della Cosa lì Però ti dicono Per prevenire l'influenza Mettiti la mascherina Masku Che sembra che è fatto apposta Invece Era stato stampato prima Allora Abbiamo Shuri Che è riparare Shuri 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 Tutto l'anno Salve Salve Salvino E Seba Nguru Shuri di tutti L'anno Nguru L'ho rivista La live Scusa ma Mi sono arrivati I miei amici giapponesi Portandomi la pizza In casa E non potevo Mandarle a fanculo Ciao Sebastiano E quindi non ci sono stato Kyorioku È cooperare Ad una pizza Non si dice mai Di no Ciao a tutti Se ciò sta è crescere Qua ho messo rio perché suona meglio Ve lo dico Tutte e due significano usare Quindi Ciao mister È la regola del 50% Che sbaglio sempre Gai Shutsu Uscire di casa Okoku è avvisare Salutiamo Kansha è ringraziare Sankha è partecipare Sankha è partecipare A tranne la cinque A Allora B Tutte A tranne B Non è vero? Sì B la prima Shuri Ok Ok Kinchio Vado a leggere giapponese al muro Abbasso un po' il volume Ma ti resto dentro Seiccio Vado a leggere giapponese al muro Che senso al muro? Sai che mi piace che mi rimani dentro Che senso? Al muro? Leggo ad alta voce Ah ok Alexan Sì mi dica Non mi senti la voce? Che mi si incarta la lingua altrimenti Ok Adesso bevo Prima finisco di leggere l'esercizio Bevo Seiccio Rio l'abbiamo presa giusta Perché suona meglio Il motivo è solo quello Poi abbiamo Sei Grazie che ho bevuto cheat Sei A A B B C A No Sto leggendo un altro esercizio Scusate A B A B A E qua è uno si o no? A A B B B B B B Cisco bun No Sbagliato Perché Giovanni Giovanni Copposta Sbagliata Scusa Perché No Non ho capito perché ho sbagliato questo ricontrollo 9 a 9 ah no non l'ho sbagliato non l'ho sbagliato salvatina bevo l'acqua e continuiamo adesso facciamo ah no qua un po' di verbi a casa e poi abbiamo gli aggettivi e gli aggettivi in a non so se ce la faccio a fare tutti e due ma proviamo a vedere adesso facciamo vari verbi con significati ah no verbi che hanno vari significati che se vi ricordate li abbiamo già fatti a ru l'abbiamo fatto che ha più significati adesso sicuramente me li fa riparare praticamente è un ripasso anche per voi allora 5 iroirona iroirona i mi vari significati no a ru doshi verbi con vari significati doshi verbi con vari significati cioè che significano varie cose allora abbiamo a ru a chi? a ru allora uno a ru metto uno perché ieri ho saltato le frasi quindi metto uno e abbiamo chikaku stranamente chikaku ni kombi ni ga ru kombi ni ga a ru a ru c'è esserci stare poi abbiamo kugatsu 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 ni omatsuri omatsuri ga a ru c'è la festa e stare anche qua esserci gogo gogo è pomeriggio kugatsu ni omatsuri ga a cos'è a settembre c'è il festival o il mazuri per me mazuri non è traducibile mazuri e basta qua io te io te ga a ru ho ho dei piani avere qua i piani ho degli impegni ho dei piani per il pomeriggio poi su koshi jikan ga a ru ho un po' di tempo su koshi su koshi jikan ga a ru avere anche qua ho tanti soldi anche questo è avere questo è avere tanti soldi allora vi scrivo avere tempo avere soldi avere tempo avere impegni impegni con la emos lo sai che telea kragas ha la sede sotto la casa di mia zia ad agrigento questo è stare eme grazie stare steare steare c'è 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 e poi andiamo avanti kareni queste qua le avete fatti anche voi kareni kaken kaken è esperienza kaken mi sa che dovevo leggerli così in orizzontale vabbè ormai io li ho letti in verticale kaken ga a ru lui ha esperienza avere esperienza esperienza poi kinokara da ieri kinokara nezu ga a ru avere la febbre nezu ga a ru nezu ga ru e proprio avere la febbre avere la febbre la febbre vado su che se non si vede una fava poi ho kinokara nezu shippai shippai shinai non è shippai è fallimento shippai no kano se kano sei c'è la probabilità di errore kano sei ga a ru probabilità di avere la possibilità la possibilità o la probabilità possibil probabilità mi piace tutto prima della p e della bc va sempre la m ma lo sai tu io no grazie allora sama zamana ikengaru avere varie opinioni sama zamana sama sama zamana ora lo sai anche tu adesso in questo momento ma domani chi lo sa ga a ru poi vado a letto e mi dimentico tutto come al solito avere idee ok a ru e notare che c'è sempre il ga 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 non perché sono stronzo ma perché a ru vuole ga punto sono banali vabbè è sempre a ru a shi ta ga a ru a shi ta ga a ru a shi ta ga è una regola della grammatica italiana peccato che con il giapponese è il contrario esatto e quello è il primo problema come quella cosa che dire io infatti anche quando ho fatto il keigo questa regola di a ru mi piace molto il keigo vi ricordate che a voi vi ho detto tipo del pullman vi ho detto il pullman è arrivato si dice il pullman è venuto come gambatte o gambatte ok e quando poi l'ho messo in pratica io ho fatto il contrario c'era tipo è arrivato il sensei ho messo il verbo arrivare al posto quindi quello di venire che lo so che è quello di venire perché la regola la so ma sono stronzo sensei 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 non sensei 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 allora due kakeru kakeru che è un'altra cosa che non è traducibile che è kagi o kakeru è chiudere la chiave perché significa un sacco di cose per quello non lo traducevo mai perché kakeru da solo significa tante cose dipende dalla frase chiudere la chiave kagi o kakeru bello kagi chiudere la chiave chiudere 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 a chiave questo è un altro verbo che ha mille significati copione kagi o kakeru poi abbiamo sono perso denuo kakeru telefonare questo l'abbiamo fatto l'altro giorno denuo kakeru telefonare no era denuo surubo non mi ricordo telefonare e ti telefono casa telefonare poi abbiamo itoni 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 meiwaku meiwaku è importante questo ricordate questa parola qua meiwaku o kakeru è dare fastidio agli altri dare fastidio dice creare i problemi ma è dare fastidio meiwaku o kakeru mettere la salsa di soia shoyu o kakeru mettere poi kinokara da ieri kinokara no che sto leggendo la frase sopra lol copia questo max kakeni sul muro kakeni tokei tokei o kakeru appendere questo qua è appendere kakeru appendere l'orologio al muro che ormai non si usa più appendere no puedo no puedo copia questo ah ce l'ho anch'io quello di chi è la questi non li so certi non li conosco non li conosco non li cronoscro allora sono dodici addonamenti dodici figlia teserico o kakeru allora non so perché mi piace il primo ma non so perché allora poi abbiamo allora kakeru questo è kagi o kakeru è chiudere la chiave è proprio tutta la frase denuo kakeru è telefonare cioè dovrei illuminarvelo tutto però il significato è quello lì chiudere la chiave telefonare mei waku solo è dare fastidio itony mei waku kakeru è dare fastidio alle persone shoyu o kakeru è mettere la salsa di soia che ha venito che io kakeru è appendere l'orologio e il muro tu ti regalo eh beh allora sei fortunato te sei un ragazzo fortunato tre nezu no dove cacchio sto a legge tre abbiamo il nostro fantastico suru e non volevamo usare anche suru allora kenka o suru litigare aiuto kenka o suru cioè io vi segno solo suru ma è tutta la frase cosa litigare mister josei shitaras kega o suru è farsi male kega o suru farsi male ho detto kega ho scritto kego vabbè kega o suru farsi male queste qua sono importanti quando vi picchiate con gli altri sono cose utili kega o suru poi yubiwa o suru fare un anello yubiwa o suru e mettersi l'anello no questo non lo sapevo yubiwa o suru mettersi l'anello infilare o yubiwa o suru infilarsi l'anello infilarsi poi abbiamo eia eia o kirei suru kirei nisuru kirei nisuru e fare bella la stanza vi ricordate fare bella la stanza chi è che ha detto stanza eia non mi da più il kanji di eia l'ho scritto così tante volte il kanji che non me lo vuole più dare fare sarebbe pulire la stanza pulire la stanza chi è che ha detto stanza poi non era kirei nina rimas uka no no kirei nina rimas e stare bella kirei nisuru e farla bella è la stessa cosa e farla pulita otto nioi agisuru qua mi ne ha messi tre insieme perché non c'ho voglia di scrivere otto otto suru e fare rumore otto suru e fare suono fare rumore quindi mi scrive otto otto suru e ti telefono casa suonare o rumorizzare come fare rumore fare rumore poi abbiamo nioi suru e puzza nioi suru e kusai vediamo kusai è lo stesso nioi suru e puzza puzza ale come diresti dare un pugno o un pugno non ho capito come diresti dare un pugno perché o pugno come diresti dare un pugno o pugno è la stessa parola non ho capito ma in giapponese quando facevo karate dicevo zuki non lo so a dare un pugno pancio sul in giapponese pancio su zuki poi lo cerco adesso dipende da come è scritto zuki vediamo se c'è qualcosa che potrebbe essere eh mica c'è nessuna marea o i zuki o i zuki forse no non esce con l'h forse no dopo lo cerco lo chiedo a maku se lo sa perché bisogna chiedere a qualcuno che parla cioè che conosce le arti marziali e non tutti i giapponesi le conoscono però karate è famoso san bonzuki sono tre pugni si 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 san bonzuki quello lo so san bonzuki che poi è san bon è tre volte ah san bonzuki su diventa zu perché suona meglio si e dopo lo cerco allora però al momento non lo saccio ma non trovo zuki ah si si perché sono a volte sono kanji che creano loro ajiga suru per le arti marziali e robe varie però dovrebbe esserci ajiga suru ha un buon sapore saporito saporaito era una curiosità si si no no se lo sapevo te lo dicevo subito ma non lo so se lo sapessi ma non lo so perché di solito come pugno io so se mi dici senpuken non lo so perché ken è pugno però zuki non l'ho mai sentito però posso cercarlo allora suru 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 questi sono verbi suru che però significano altre cose poi abbiamo toru che è un altro fantastico verbo che significa mille cose toru infatti poi il problema è che il kanji cambia anche non è sempre lo stesso kanji ah no invece qua si quindi lo mettiamo questo qua è quello normale diciamo toru yak ten toru prendere cento punti yak ten wo toru prendere cento di solito volevo prendere cento punti prendere ottenere cento punti prendere cento poi pensavo che come lettore di okuto non ken ti fosse capitato pensavo si si no 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 li usano ken usano ken come pugno tipo teken pugno d'acciaio usano ken proprio come quando dicono pugno cioè usano il kanji ken che non è ken di ken ma è ken di pugno che dovrebbe essere aspetta che dovrebbe essere questo qua in casinà quello di teken questo qua questo ken qua allora memo o toru prendere appunti memo o toru e prendere appunti prendere appunti vai lo scrivo prendere appunti questo qua è il nostro prendere normale non è che a tanti c'è kioka o toru prendere ricevere l'ok prendere il permesso kioka o toru bello kioka o toru prendere permesso poi toshio o toru che è la mia vita toshio o toru è diventare vecchio diventare vecchio sì con quello che ho da dire non valgo quattro lire dovrei già morire iassumi o toru prendere riposo prendere vacanza qua toru l'hanno prendere vacanza prendere riposo vacanza prendere vacanza riposo eh sì ero molto rinato zero quando ero giovane tanto giovane soio o toru è uno dei cantanti italiani che mi piace dopo Pino Daniele ehm soio o toru cioè quello vecchio e non quello no cioè quello vecchio non nel senso adesso che è vecchio quando era giovane praticamente ora ci siamo capiti no però va bene ehm soio o toru soio o toru è prendere la soia prodotto con la soia no questo mi confonde perché prodotto con la soia non è prendere la soia baila con me e e non esce non mi esce uacchetta ipsilunolo uacchetta iom per me è prendere la soia però il libro dice produrre la soia produrre la soia per me si droga qualcuno non so io almeno non adesso quando andavo a Wulstock sì ma adesso no produce fare fabbricare sì fabbricare è ben diverso fabbricare eh sì è bello diverso qua dice fabbricare fare la soia fare la salsa di soia vi metto fare però mettiamo un punto di domanda e chiedo a Marco poi perché per me significa un'altra cosa magari io ho sempre sbagliato io cinque abbiamo Deru questo questo l'avete fatto anche voi questo kanji qua questo guardatevelo perché vi aiuterà nel futuro quando ci sarà un futuro giuglio giuglio la lezione giuglio prima degli esami giuglio è andare in classe no giuglio è lezione non è andare alla lezione giuglio non è la lezione scusa giuglio è andare in classe andare a lezione questa è tradotta qualcuno questa è andare a lezione non mi freghi a me Iumena comunque questo libro fa cacare c'era meglio se non lo scrivevano in inglese Iumena Daigaku o Deru questo qua è laurearsi o graduarsi o laurearsi laurearsi a una laurearsi università non scrivo famosa cioè non è che la traduzione della frase solo per capire il verbo come si usa poi laurearsi case de nezuga deru case de è però questo case è case de non è così case cola per l'influenza mi è uscita la febbre vabbè ci sta nezuga deru è quando ti si alza la febbre prendere la febbre prendere la febbre poi può avere la febbre sucudai gadero avere i compiti da fare sucudai gadero avere i compiti fare i compiti avere i compiti da fare come si dice avere compiti avere i compiti acg acg acgig acgni ieni deru esco di casa alle iè o deru mamma mia ho messo iè o deru esco io me è uscire di casa uscire di casa e ti telefono casa questo è quello normale come si usa normalmente così uscire uscire di casa però non sapevo che si metteva iè o deru io mettevo sempre iè ni deru e ho sempre sbagliato complimenti allora facciamo gli eserzazisi no devo segnare queste robe qua torun 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 allora yakten torun memo torun kyoka torun toshio torun yasumio torun shoyu torun e futorun futorun ingrassare lol ho fatto la battuta io ho capito solo io proprio giugio deru giugio ni deru oggi l'hai sentito mako san sì sì l'ho sentita prima yumena daigakuo deru la sento sempre prima della lezione kasega netsuga deru la sento dopo la lezione pure io e le ho capita le capita anche tu bravo allora siamo in due kasega de netsuga deru sono le si chiamano ogisanghiag e chiamano proprio così perché sono quelle battute che fanno ridere nessuno salutala da parte nostra yes lo faccio sempre acgini yenidero poi tanto quando tornerà vi dirà a tutti o genki le scape che dice sempre la solita frase non so per quale motivo dice solo genki le scape anzi dopo mi taglio i capelli ci manca la sua presenza in live mi manca il rumore perché la presenza allora facciamo gli eserzazi poi facciamo anche gli aggettivi e se ce la faccio facciamo anche gli aggettivi na che cacchio è tai tai gigo cos'è antonismo cos'è un antonismo cos'è un antonismo cos'è un antonismo oh mio dio chi è tai tai gigo c'è scritto in inglese antonismo antonism cazzo è un antonismo anton nims non esce neanche anto antonomasia anto non esce neanche l'ho scritto giusto antonismo se cerco se cerco sull'italiano anton a contrario antonimo contrario antonismo è un nuovo movimento religioso di derivazione cristiana e spiritista eh no eh guarda qua scusa non è non lo sono inventato c'è scritto qua sul libro c'è scritto proprio così contrario esatto antonim l'ho scritto così l'ho proprio copiato dal libro antonim con la s manca un pezzo perché l'ho copiato male ok facciamo gli esercizi vediamo se ci ho capito qualcosa intenzione mai usato mai usato neanch'io tokyo made fino a tokyo vedete che ci sono sempre le cose che vi ho insegnato tokyo made made fino a i cochi de con l'aereo prima cosa che lo sento in vita mia i cochi de con l'aereo queste sono proprio le frasi che fate voi e però ci sono anche nell'n3 i cochi de notare notare nijikan gurai per due ore più o meno queste sono le frasi che avete fatto voi kakari mas però che cacchio ci entra tokyo made ma kakari mas cosa c'entra scusa tokyo made i cochi de nijikan kurai kakari mas qua ho saltato un pezzo kakari mas non ce l'ho tokyo made i cochi de nijikan kurai kakari mas per me è kakari mas non è tori mas perché è stupido che è tori mas è kakari mas però non c'è non c'è io metto kakari mas perché l'altra volta per me è kakari mas no non c'è c'è scritto tokyo made i cochi de nijikan kurai kakari mas tori mas de mas è kakari mas però non c'è nell'esercizio cioè non c'è nella spiegazione come ieri che dicevo non c'è nella spiegazione e poi l'ho sbagliato questo in teore non c'è kurai kurai kakari mas tori mas de mas tori mas io non lo metterei tori mas nient'altro nessuno toru non lo metterei proprio l'altro è de mas è uscire amuro ikimasu boh lascio così vediamo però mi mette achi g ni ieni o deru no e uscirò di casa alle 8 poi io lascio così lo scopriamo dopo 2 magari hanno messo una frase a caso teburu non mi fa perché ogni volta mi dico non c'è nell'esercizio e quindi non è giusto invece anche ieri ho sbagliato così perché era giusto poi rispondo come risponderei io kirei ni ste ana o kasatta ho pulito sopra il tavolo e ho messo l'ho decorato con un fiore kasaru è decorato e ci ho messo sopra un fiore senza vaso però 3 nezzuga la febbra nezzuga deta dasta nezzu eh figa nezzuo deru nezzuo deta nezzuo dasta io metterei dasta nezzu dasta no de io metterei dasta deta no de deta no de mi suona di merda io metterei dasu dasta dasta no de a me piace più dasta no de metto deta ma mi piace più dasta no de ho questo esercizio è stronzo che mi vuole confondere kyo nezzuga deta no de kyo da kyo a gacco oggi a scuola non ci vado gacco uo io assumo io assumo riposerò da scuola tomo visto che sto male penso che non andrò a scuola oggi tomo visto che mi è venuta la febbre quattro visto che ho la febbre non hai visto che mi è venuta la febbre visto che mi è venuta la febbre oggi non andrò a scuola buccio che è buccio di culo come lo sentite tutti buccio buccio lo chioca il permesso del 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 testa di capo otto te ho preso il permesso dal testa di capo micca micca yassu micca micca can yassumi per tre giorni di filo ho preso riposo o toru sumorides toru tre giorni sumorides per tre giorni per tre giorni per tre giorni questo qua è can quindi per tre giorni per tre giorni prenderò riposo ottenzione di prendere riposo per tre giorni toru suru dasu toru got cosi ti faccio vedere come si fa gshop.org gshop.org looked at ... Allora guarda Achille, aspetta che se non ti faccio vedere il coso non vedi niente, allora tu schiacci sul, dopo che hai cercato la parola schiacci sul kanji, qua c'è il kanji che te lo fa vedere scritto in grasso o scritto se lo trovi in un altro modello vedi che cambia la scritta e poi se schiacci qua ti fa vedere la sequenza e se vedi è scritto in quattro quadretti anche voi scrivetelo in quattro quadretti per scriverlo giusto. E qua vi fa vedere segno per segno, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ok, non mi ricordavo che ci dovevo cliccare, con onyomi e kanjomi. Con onyomi e kunyomi, esatto, questi sopra i kunyomi sono le pronunce giapponese, gli onyomi sono le pronunce chainese. Avevo trovato anche questo. Bello, non puoi metterlo, non puoi metterlo, non so come abilitartelo, sono ignoranto. Mettilo nella cosa per i principianti. Comunque dopo, oggi pomeriggio, quando finiamo di ripassare, facciamo un refresh di tutti i kanji che abbiamo fatto, così vediamo se ci sono tutti e vediamo come si scrivono a uno a uno. Solo i VIP possono pubblicare il link? No, no, non è così, non so proprio come impostarlo, è proprio, lo blocca Twitch, non sono io. O i moderatori? Eh sì, però non c'è Daniele. Comunque, dopo li riguardiamo, sti robicoli. Aspettate che sono sull'altra pagina. Ok, andiamo avanti. Quattro, cincos. Perché hai detto un... Io vi posso non ti assicuro. Nanika, eh, no, mi fido, è che io sono ignoranto. Enna, Enna che è quella città vicino a Napoli. Enna Nioi, Enna Nioi ga. L ho sbattuto di là. Enna. Nioi ga. Nioi ga. Nioi ga. E pubblico su sua autorizzazione. Che c'è qualcosa che puzza. E pubblico su una... Eh, ma non so come si fa l'autorizzazione, quello è il primo problema, sono ignoranto. Basu. Basu ga. Enna significa puzza xd. No, Enna è strano. Enna Nioi è... C'è uno strano odore che significa c'è una strana puzza. Enna Nioi ga. Sbattuto di là. Eh, significa c'è una strana puzza. Eh... Ah, qua ho scusato, ho dimenticato il ga. Infatti ho detto, ma che cacchio c'è il ga. Non l'ho scritto sopra, finissà. Aspetta. Ho scritto solo Nioi suru. Enna è la città dove sono nato in Sicilia. Eh, in Sicilia. Io ero convinto che era nella poliva di te. Come so bene la geografia. Dove cacchio è suru? Qua. Qua l'ho messo, negli altri no. Non so perché. Otto ga suru. Sai ga suru? Si dice? Otto ga suru sì. Boh. Eh... No, quello è Nioi ga suru, quindi sì. È la città più alta di Italia. Bas, Gaderu, Made, fino a che non parte il Pullman. Mada ancora. Gikan, c'è tempo. Gikan, Garu. Qua è Garu. Sbattuto, Adenna in Sicilia, provincia di Napoli. Ciotto, 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 combini, combini, ni, combini, ni, airò. Visto che c'è ancora in tempo, prima che parte il Pullman, andiamo un pochetto al combini. Lo toglio perché non ci sto. Sette. Sette, prima degli esami. Daigaku, Daigaku Monogatari, leggetelo se non l'avete mai fatto. Daigaku, che mia moglie dice che è ecci, ma non è ecci, perché le persone a Daigaku fanno ecci, è una cosa normale. Daigaku, uo, detarà. Quando uscirò, mai, dall'università, detarà, era detarà. Quando uscirò dall'università, kunini, kaete, tornerò a casa mia, kunini, kaete. Quando arrivi dall'autostrada, si vede una montagna tagliata e sopra una città, fa impressione, Enna. Tsuyaku no Shigoto stai. Questo è quello che vorrevo fare io, ma non l'ho mai fatto. Shigoto wo stai. Quando tornerò nella mia... Allora, quando migrado all'università, tornerò nella mia nazione e farò il lavoro di traduttore. Non l'ho mai fatto. Otto. Sanjupum. Non l'ho mai fatto. Quello che portava i giapponesi in giro per la città, ma non l'ho mai fatto neanche quello. Sanjupum, Mochikoku, ho fatto ritardo di 30 minuti. Stano De, visto che ho fatto ritardo di 30 minuti, Minna Ni, Meiwaku, Meiwaku, ho dato fastidio. Meiwaku o Kakeru. Meiwaku o Kaete Shimatta. Ka-ke-te Shimatta. Ragazzi, vado a sdraiarmi sto vento che spazza, mi sa che porta roba a cui sono allergico, ci sentiamo nel pome. Ok. Ma stave ti vado. Non ti fare spazzare via. Che Minna dici? Che Minna dici? Che Minna dici? Che Minna dici? Noi ce l'avevamo già. Non voglio più amici. Ma voglio solo nemici. E siciliano Alex? E siciliano chi? No, io sono di Varese. e mia mamma, no, mio papà è di Napoli e mia mamma è di Montemilone. Nessuno di voi sa cos'è Montemilone. Siciliano che io ho sempre chiamato Montemilone. Ricordati che ho 255 mila punti ti posso bannare dieci volte. Seno femminile. Minna, seno femminile. Minna, sì, no, quello sì, lo so cosa significa. Chi è che conosce, dov'è Montemilone? Vediamo se qualcuno di voi lo conosce. Per me non lo conosce nessuno. Io lì a Montemilone ho visto il concerto di quello che cantava Oh, oh, cavallo, oh, cavallo. L'estate, è stata l'estate più brutta. Cerco su Google. E lì praticamente il divertimento era ammazzare con le fionde, con, non le fionde, sì, mi sembra la fionda con gli spuntoni d'acciaio ammazzavamo le lucertole. Il Monte Rocciamelone lo conosco. No, non Rocciamelone, Montemilone si chiama, che io lo chiamavo Montemilone perché ero bambino. Ma certo, è in provincia di Potenza. Esatto, c'è in provincia di Potenza. È un paesino, adesso non so se esiste ancora. Perché c'erano cinque abitanti, mia mamma è andata via, sono rimasti in quattro. 1494 abitanti della provincia di Potenza in Basilicata. 1494, allora si sono moltiplicati, erano in cinque prima. Erano in cinque prima. E mia mamma era di lì. Detano, sì, ha abitato pochissimo lì perché poi è andata in Germania, eccetera, eccetera. Però è andata lì. Qua ho messo Kakarimas che non c'è nell'esercizio, come potete notare. Sicuramente sarà sbagliato, ma Kakarimas non c'è. Lì li ho contatti tutti. Eh, 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 stai. Che andiamo a vedere. Il primo, se è sbagliato, mi incazzo perché. Altro. Nijikan to rimas. Nijikan kurai to rimas. Ah, però è magari inteso Tokyo Made. I kokide. Nijikan kurai to rimas. Però Kakarimas si dice, l'abbiamo anche fatto. Però dovrebbe esserci Gakakarimas. To rimas. De mas. Fino a Tokyo, prende, dovrebbe essere, prende quasi due ore. Però fa schifo. Vabbè, io lo lascio così. Al massimo metto rimas questo qua, ma fa Kakarimas. Qua dovrebbe esserci un Gakakarimas, però. Di solito è Kakarimas. Metterci, l'abbiamo fatto anche nell'esercizio. Con il pullman ci metto Kakarimas. Ci vogliono due ore. Questa è sempre la regola che dice il contrario dell'altra regola. Sì, ci vogliono due ore e dovrebbe essere Kakarimas. Se invece prende due ore, inteso come prende due ore, ma fa schifo. Non si usa mai prende due ore. Si usa Kakarimas. Però vabbè. Per me non è un errore Kakarimas. È sbagliato. Ve lo dico subito. E invece è giusto. È un giapponesismo. Sì, ma non puoi mettermi. La risposta è Kakarimas e mi hai fatto deru, toru, suru e kakeru e aru. Non c'è. Perché? Sei stronzo. Sì, questa è la risposta. Sei stronzo. Allora, ho imparato che posso piegare la pagina e guardare qua. Però. Allora, CB, C è shtè, giusto. B è d'età, giusto. 5A è zuckeru. Assolutamente, confermo. No, che sono stronzo. No, ho sbagliato a leggere, scusate. Allora, 3B. 3B è giusto, che è d'età. È questo. Poi 4B è A. Quindi l'ho sbagliata, la 4B. Che è l'esercizio è fatto male. No, tote e toru, è giusto. Che è l'esercizio è fatto male. Non puoi farmi fare un esercizio per mi dare le risposte di un'altra roba. Però va bene. Cioè, tipo questa, io la risposta perché la so, ma una che non sai che si dice Kakarimas quando ci metti tempo, avrebbe messo toru. Tipo, ho preso 20 minuti per arrivare lì. Però sei stronzo, cioè non è un errore. Sei stronzo tu che non me l'hai spiegato e mi chiedi una cosa che non so. Però va bene. 5C, salute. C è su Ru, giusto. 6, questa qua è impossibile sbagliarla, vedrai che l'unica che ho sbagliato è questa. 6A, Haru, ok. 7A, là. Quindi Detarà e Kaketè, giusto. Sono fatto giusto. Bene. Adesso facciamo, c'è tempo, sì. Facciamo gli aggettivi I. Faccio gli aggettivi A, due ore mi fermo. Però fino a che non arriva due ore vado avanti. Aggettivi I, quindi ripassiamo un po' di aggettivi I che forse voi non sapete. 6. Un'ora, sì, sì, non lo vedo quanto tempo sto in là. Però di solito faccio due ore, giusto per. Però vedete che se faccio la lezione solo scrivendo su Excel, faccio molto prima che scrivere. Non sto scrivendo perché questo è un ripasso delle cose che ho già scritto. E posso andare più avanti. Di solito avrei fatto una, al massimo due lezioni. Quelle faccio 3-4 una volta. Allora, Cane Moci è uno che ha tanti soldi. 6, se la lezione 6, I, I, Keioshi, Keioshi. Si sa cosa significa Keioshi? Keioshi significa aggettivo. Keioshi, aggettivi, i nostri fantastici aggettivi. E qua mette aggettivi un po' più complessi. Cane Moci, Cane Moci è uno pieno di edanè, che significa ricco. Cane Moci, Cane Moci, Itadakimochim. Urayamashi, sono invidioso. Urayamashi, essere invidioso. Invidioso, sì, io esatto. Una volta. Ricco dentro. Erai, Erai, Erai Sensei. Sensei. Erai Sensei è un... Erai è importante. Io, di solito, Erai mette importante. Qua mette riconosciuto, outstanding mette, ma Erai è importante. Di solito, Erai Ito era una persona importante. Osanai, è giovane. Osanai, è giovane. Anata wa iu mena Cane Moci de Ion. Giovane. Giovane. Anata wa iu mena Cane Moci de... Da Ionè. Hai scritto imporante. Hai scritto imporante. Imporante, andranno a trovare un altro elefante. Importante. Così ti va bene. Importante. Ah, no, è invertito. Allora, Erai, vabbè, ve lo scrivo, perché se no vi dite quel kanji cos'è, ve lo scrivo giusto per sport. Erai, e questo è Osanai. Osanai, che significa anche non spingere, ma in questo caso è un'altra cosa. Osanai, quattro, questo qua è Otonashi, tranquillo, Otonashi, che non è questo kanji, Otonashi, è giusto, perché non manda... Ok, è quello di adulto, però significa che è tranquillo, Seikaku è carattere, Seikaku, Otonashi, Otonashi, tranquillo, stai tranquillo. Poi abbiamo cinque, che è quello che descrive me, Kaku-i, tanto tempo fa. Kaku-i Kuruma è figo, poi me l'ha scritto metà in kanji. Shal, è bella, stai tranquillo, bro. Kaku-i, queste cose qua non ve le spiega nessuno. Kaku-i è figo, qua mette Kuruma, però potete usare anche per le persone. Kaku-i è figo, proprio così, figo. Poi abbiamo sei, abbiamo Senaka Gakai-ui, mi prude la schiena. Potevo scrivere anche la palla, però non l'hanno fatto. Senaka Gakai-ui, e se volete sapere come si dice palla, ve lo spiego, è Kintama, la palla dorata. Kaku-i, sensei. Kintama. Questo qua è testicolo. Mamma mia, che parole che vi insegno. Senaka Gakai-ui, mi prude la schiena. Prude, re, prude, re. Che non è un aggettivo. Kaku è... Prude, quindi qua mettete Kintama Gakai-ui, significa che vi prude la palla. Sette, vedi queste cose le imparate solo su rxmako.com, non c'è il punto com però. Sette, Kusai Sakana, il pesce che puzza. Sakana, o se no potete sempre mettere Kintama al posto di Sakana e vi puzza la palla. Kusai è... Kintama Gakai-ui. Kintama Gakai-ui, esattamente. Mi prude la palla. Kudaranai Ega, un film noioso. Kudaranai Ega. Kudaranai è noioso, boh, potrebbe essere noioso. O inutile. Cioè, o stupido, dipende dal contesto. Qua non c'è contesto, quindi boh. Mune ga kurushi. Mi fa male il petto. Mune ga kurushi. 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 Mi fa male. Fare male. Fare male il petto. Maloso. Com'è che si dice? Doloroso. Maloso. Puzzo. Questo non è puzzo, ma è puzzolente. Doloroso. Anche perché dovrebbero essere aggettivi. Questo pruroso, prudente, com'è che si dice pruritoso? Kai-ui com'è che si dice l'aggettivo? Prudoso? Prudenziante? Vabbè. Pruriginoso. Pruri. No, non metto prude. Prudenziante, non lo so neanche io cosa significa. Non l'ho mai detto in vita mia. Allora rimarra prude. Allora, kurashi. Questo qua lo trovate sempre a fine delle cose. Ho scritto sotto. Quando leggete le robe in giapponese o guardate le trasmissioni in giapponese, sotto c'è scritto kurashi. Joho, per le informazioni più dettagliate, guardate il sito e questo è il canji. Kuashi, cioè questo è l'aggettivo. Oedaye. Escirio. Documenti più dettagliati. Dettagliato. Kuashi. Dettagliato. Poi ungimi. Komakai. Prudeno caprurito. Eh, lo so, no, no, ho capito cosa significa, ma non l'ho mai usato in vita mia. Quindi è difficile che mi ricorda una parola che non so, non uso. Komakai è, komakai e kotokini suruna è un altro significato dettagliato anche questo. Le piccolezze. Komakai è cose piccole. Komakai. Stuzzicante, solleticante, eccitante. Anche qua mettiamo dettagliate, piccolezze. Picco, picco, piccolezze. Si dice così? Boh, vabbè. No, no, ho capito. Ho capito, ho capito. Però, beh, l'unica che è più facile da ricordare è Pruda, quindi. Non è che per... È un aggettivo I, ma non è detto che per noi italiani è un aggettivo. Dodici. Kuai Anashi. Un discorso pauro. So, Kuai Anashi. Non mi funziona più il tasto. E' ricercata come parola. Eh, lo so, ma da voi io non la conosco. Io poi se devo ripassare e non la conosco la parola è un problema. Kuai è pauroso. Film pauroso. No, discorso pauroso. 13. Stashi Ito. Stashi Ito. Persona gentile dovrebbe essere... Ah, no, Stashi Ito è familiare, conoscente. Non mi ricordo più, dovrebbe essere conoscente. No, Eugene. Eugene. E' amiciccio. Stashi non me lo ricordo. Familiare dovrebbe essere. Dovrebbe essere familiare. Stashi. Stashi. Familiare. C'è questo che sta battendo la palla da palacanestro per terra sotto la mia finestra. Grazie. Molto gentile. Poi il bello è che siamo ancora arancioni, colorati, sfondo, viola, eccetera, eccetera. E ci sono i ragazzi fuori che giocano al basket. Vabbè. E si strusciano tra di loro. Molto bene. Tsumaranai Bangumi. Ancora. Vedi, questo è noioso. Come faccio? Kudaranai è stupido allora. Mettiamo Kudaranai stupido. Perché questo qua è noioso. Kudaranai è stupido dovrebbe essere. Kudaranai mettiamo stupido. Stupito. Stupido. Perché qua mette Tsumaranai. Tsumaranai è noioso. Tsumaranai. Bangumi. Programma è noioso. Tsumaranai è noioso. Tsumaranai. Tsumaranai. Quindi dici. Tsurai. Tsurai. Tsurai de Kikoto. Tsurai de Kikoto. Ricordare cose dolorose. Ricordo doloroso. Difficile doloroso. Tsurai è difficile doloroso. Difficile doloroso. Tsurai. Tsurai. Tsurai quando ti ricordi una cosa. Intimo. Sì sicuro. Intimo. Chiamolo. Mi fido di lei però. Boh. Io non l'ho mai usato come intimo. Uso. Di solito uso cilli. Mi mi piace fuori familiare. Anche intimo. Però. ha tre significati. Vicino. Familiare. Intimo. E amico. E mettiamo familiare. Intimo. O super amico. Ok. Ok. Grazie. Questo l'ho sempre usato come familiare. Vediamo questa cosa non la sapevo. 16. Grazie. Natsukashi è quando pensi a me. Tutte le volte che mi pensi pensi a Natsukashi. Natsukashi è nostalgia portami via. Natsukashi. Natsukashi. Nostalgia. 18. Ageshiame. Però già forte. Ageshiame. Ame. A. G. S. Forte. Scrosciante. Come cazzo si. Violenta. Violenta. Forte. Pioggia forte o violenta. 18. Azukashi. Azukashi. Che lo dicono tutti. Non so. Azukashi è che vergogna. Keiken. Un'esperienza vergognosa. Imbarazzante. Azukashi. Azukashi. Imbarazzante o vergognoso. Come cacchio volete voi. 19. Idoi checca. Risultato di muerda. Idoi checca. Que devil. Buongior. Un risultato di muerda. Sono tutti imbarazzati. Esatto. Azukashi. Idoi. Idoi come posso dirlo. Brutto. Brutta esperienza. Brutto. 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 Risultato. Brutto. 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 20. Come dice la mia capa. Quando vedeva le vetrine del negozio che non gli piacevano dicevano brutto 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 brutto. E io dicevo non sono io che le faccio. Inutile che ve lo dice a me. Voglielo dire a quella lì che ha detto che le vetrine erano belle. Ehi Joe. Don't give me none. No forse era Jude. Kodomonokoro. Quando ero piccolo tutti mi scherzavano. Mazushi e sei cazzo. Ciao DJ Ival. Mazushi è poverino. Mazushi. Ma. Zu. Si. 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 Zushi. Kawaiso. Povero. Kawaiso. Esatto. O. Kino. Doku si dice. Allora povero. Allora abbiamo imparato. Abbiamo imparato no però vabbè. Qua abbiamo altri aggettivi che voi dite ma gli aggettivi li abbiamo già fatti. Sì ma c'è sempre un aggettivo I nuovo da imparare. Urayamashi invidioso della mia bellezza. Erai è una persona importante. Poi abbiamo Osanai. Osanai è giovane come me. E Ottonashi è tranquillo. Bello tranquillo. Brocca qui è come me. Figo. Kintamagakaiui mi imprude la palla. Kusai Isakana è il pesce puzzolente. Kuderanai Ega è un film stupido messo perché c'era noioso. Era l'altro. Mune Gakurushi mi fa male il petto. Kusai Isakana è un documento dettagliato. Komakai è dettagliato ma è piccolezze. Di solito dicono Komakai Kutokini suruna. Non darei peso alle cose piccole. Cioè non ti perdere nei dettagli sarebbe. Komakai Anashi è il discorso pauroso che ti fa paura. Questo qua è Stashi che io mettiamo familiare ma come dice Gio è anche intimo. Tsumaranai è noioso. Tsumaranai è bangumi. Tsurai Dekigoto è una ricordarsi cose dolorose è un'esperienza difficile. Nazukashi Uta è quando canti una canzone che ti ricorda quando ero young come me e piango da solo. Ageshi è violento forte. Azukashi è vergognoso. Idoi è brutto o terribile o una cosa del genere. E Mazushi è povero. Adesso ci fa l'esempio. Me ga gli occhi puzzano. Mi fanno male o prudono? Me ga kai yui. Di solito in giapponesi usano a dire me ga kai yui. Mi prude l'occhio. Me ga kai yui. Mi prude l'occhio. Due. Kokyo. Kokyo è la tua città natale. Kokyo ga Uta ranai è noioso. Nazukashi Urayama Shin. No direi che è Nazukashi. Ho la nostalgia della mia casa natale. Tre. Chiuni all'improvviso. Mi sono cadute le mutande. Chiuni. Ascitta. No de. Ho iniziato a correre. Ascitta. Ascitta. No de. Ieri ho iniziato a correre. Munega. Capita spesso. Eh sì. Munega. Munega. Allora il petto mi prudeva. Faceva forte o mi faceva male? Quindi kurushi. Mi faceva male? Munega. Kurushi. Qua mi mette il kanji. Che cesto. Si dice cesto ma è cesto. Ah ah. Bene. Munega. Kurushi. Mi fa male il petto. Quindi non correre. Quattro. Watashi wa. Watashi wa. Io. Takai. 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 Questo anch'io. Takai. Tocoro. Dai posti alti. Questo il socio. Ga. Kouai. Idoi. Tsurai. Kouai. Ho paura dei posti alti come me. Cinque. Infatti non riesco più neanche a volare. Sei alto. Sono alto 1,93. Mi chiamavano Karim Abudul Champagne. E giocavo con Andrea Meneghin. Il figlio di Diego. All'epoca si chiamava Divarese. Che poi è diventata Ranger. O l'inverso. C'è ancora la divisa. Cinque. Cioè. Quando ero giovane. Quando avevo 15 anni. Giocavo con lui. Poi. E andavamo in giro. Andavamo in giro. E per quello che hai le vertigini. E poi andavamo in giro a. Come si chiama. In macchina varese. Con la 500. Aperta. Il tetto aperto. Con le nostre teste che uscivano fuori dalla 500. Cose belle del mondo. Vedi. Quando ero giovane. Io tornerò a scuola adesso. Ah. Infatti sto studiando. Cinque. Otonashikase. Ageshikase. Mazzushikase. Il case è ageshì. Perché il case l'è forte. Ageshikase. Che non è questo. Ma è questo. Mi sa che anche sopra ho sbagliato a scrivere case. E nessuno me l'ha detto. Ageshì dove l'ho scritto? Ah no. Era a me. Quindi non ho sbagliato. Ageshikase. Il vento fuerte. C'era il vento fuerte. Ageshikase. Mi sono perso. Ga fuiteru. Soffia. Vedete che case ga fuiteru. Che è quello che abbiamo fatto. Che è soffiare. Non suiteru. Ma fuiteru. Fuco diventa fuiteru. Perché lo saprete nelle prossime lezioni. Il vento soffia fuerte. Sei? Sta soffiando forte. Ti sei perso nei ricordi. Esatto. Mi sono perso nei miei pensieri. Watashi wa. Ano ito to. Kuashi. Kurushi. Stashi. Con quella persona sono molto intimo o familiare. Watashi wa. Sono ano ito to. Con quella persona là. Ano ito to. Ano ito. Nanananananananana. Stashi. Sono molto familiare o molto intimo con quella persona. Ogni tanto gli inciampo dentro. Sette. Coibito. Coibito è fidanzato o fidanzata. Questo è importante. Coibito. Coibito. No. Iruito. Ga. Le persone che hanno il fidanzato o la fidanzata. Ga. Questo qua è Azukashi. Urayamashi. Urayamashi perché lui non ce l'ha la ragazza. Urayamashi. Otto. A me non me ne frega niente. Otto. Konogako. Questa scuola. Konogako. Questa scuola. Konogako wa. Komakai. Herai. Chi so. Chi so quelle legge. Chi so quella legge o regole. Non mi ricordo più. Komakai. Chi so. Gaoi. Ah. Non mi ricordo cos'è. Chi so. Non devo cercare. Mi sembra che era le regole. Chi so. Dovrebbe essere le regole. Aspetta. Coibito. Cioè lo so leggere ma non mi ricordo. Regole. Regole. Sì. Eh ma allora. Le regole sono. Vabbè. Intime no. Importanti no. Komakai. Komakai. Dettagliate. Komakai. Tante piccole regole. Komakai. Come il giapponese. Che ha tante piccole regole. Komakai. Kisoku. Questo me lo scrivo perché. Cioè me lo segno che so stronzo. Lo so leggere ma non mi ricordavo il significato. C'è nel senso. Me lo ricordavo ma avevo i dubbi. Quindi me lo segno. Gaoi. Sono tante. Milioni di milioni. Come disse la pubblicità. Negroni. Negroni. Karewa. Se gatakakte. Lui è alto. Se gatakai significa essere alto. Se gatakakute. E' alto. Tsumaranai. Natsukashi. Kakkoi. Lui è alto. Che figo. Come vede. Kakkoi. Ogni tanto me lo scrive così. Ogni tanto si scrive così. Dieci. Karewa. Se gatakakute. Kakkoi. Lui è alto. E' figo. Vedi. Takakute. E' alto. E' figo. I due aggettivi uniti. Kutte. Che abbiamo studiato nella lezione. Intanto mi consiglia Adriana. C'è chi nota attrice. Non la conosco. Dieci. Kodomo no Korò. Ma l'hai vista quella giapponese. Che avevo messo sul coso. La giapponese con le tette rifatte nella piscina. Kodomo no Korò. Quando ero bambino. Tutti mi scherzavano. La gommosa. Sì. Penso di sì. Quella tutta di plastica. Korò. Ie. Iega. Sì. Orribile. A me non piace. Sayuki qualcosa. Si chiamano. Iega. Mazushikata. Mazushikata. Quando ero piccolo. Si galleggia senza salvagente. Sì. Esatto. Non c'era bisogno. Quando ero piccolo. La casa mia era povera. Mazushikata. Vediamo. Allora. Prima segniamo le risposte. Mazushikata è poverino. Poveretto. Poi Kakkoi era figo come me. come ero tanto tempo fa. Adesso se mi guardate. C'ho degli ok che mi arrivano per terra. Perché stanotte ho fatto un sogno brutto 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 brutto. Koibito no heroito ga uraya ma shi. Sono invidioso delle persone che hanno la fidanzata. questo è Shtashi. Con quella persona qua. Kasega. Agheshi. Forte. Takai. Questo è Kuwai. Paura. Kurushia. Mi fa male il petto. Questo qua è Kokyo. Kokyo. Kokyo è la città natale. Ma io ti ho suggerito un rimedio per non fartelo venire più. Ah sì. Quella sì. Grazie. Top. Quello no no. Per me ci sono due cose importanti. Tora e Mako. Però prima arriva Tora. No scherzo. Allora. E poi i miei Chogokin. E non riuscirò mai a separarmene. Quindi mi sa che farò un cargo e mi metterò sul cargo a tenere tutti i miei Chogokin in piedi nelle vetrinette fino al viaggio in Giappone. E ci metterò tre mesi ad arrivare. Quando arriverò sarò morto. Però vabbè. Perché so già che se metto tutto nel cargo e lo spedisco la roba e mi arriva rotta mi incazzo come una bestia. Allora. Correggiamo gli eserzazi. Poi magari facciamo anche questo. Facciamo anche gli aggettivi na. Così. No poi no niente continuo. Pensavo che la fine. No. Quante lezioni mancano? Una, due, tre. Quattro. No. Una, due, tre, quattro. Cinque, sei, sette. No. Mi conviene fermarmi perché così poi faccio la... Lo faccio tre lezioni a volta lì per farle... Iniziamo a correggere gli esercizi. Tanto fretta non ne ho. Ma in treno sarà una settimana? Eh ma in treno il cargo non me lo fanno mettere. Il cargo è sulla nave. Cioè il cargo, il... Come si chiama? Il container, scusa. Il container di solito viene mandato tramite nave. Viene mandato tramite nave. Di solito. E poi non lo so. Non mi sono informato. Però quello che volevo fare è quello. Carico tutto su un container e via. Porto anche la macchina. Mi porto. Mi porto tutto. Allora. Parlo come se sto già andando lì ma non è assolutamente vero. Non ho ancora capito che cosa voglio fare. Addirittura. Non ho ancora capito cosa... Eh perché mi gira il cazzo dovermi ricomprare tutto sinceramente. Anche perché già solo comprarmi il computer, l'attrezzatura che ho qua mi costa a meno 10.000 euro. Ti capisco. Allora. Non mi ricordo più dove sono arrivato. Aggettivi A, C, C, A, B. A, C, C, A, B. A, Kayui. C, Nazukashi. Non mi ricordo più. C, Urushi. Se poi ti vuoi trasferire definitamente. Esatto. Se mi trasferisco definitivamente farò così. Porto tutto. Però prima vado su a vedere la situazione. Se poi c'è, vediamo. Però quello che mi dispiace è Tora. Cioè il problema principale per me è il gatto. Cioè portarlo 13 ore in viaggio. Poi se scappa mi incazzo di bestia veramente. Poi sicuramente starà male perché lo porti via da casa sua e soffrirà. Certo lui soffrirà. Mi dispiace per lui. Certo lui soffrirà. Esatto. A, C, C, A, B. Allora, A è Kuai e B è Hageshi. Ok. Poi. A, B, B, C, A. Ma l'hai chiesto al vetrinalo. A, Stasi. Aspetta, Stasi. B, non mi ricordo più, mi hai confuso. Aspetta che ti rispondo. A, C, A, non mi ricordo più. A, B, B, C, A. B, B, C, A. Allora, B, Urayamashi, B, Komakai, C, Kakoi e A, Mazzushikato. Mi hai chiesto al vetrinalo. Sì. La domanda nascere è o? Nascere un marerù è la prima. Se ci è qualcosa per tenerlo calmo o addormentarlo. Lo so, ma ho paura a fargli fare l'anestesia, robe varie, perché abbiamo avuto brutte esperienze con l'anestesia che poi non si è mai più svegliato l'animale. Il veterinario, cioè, gli abbiamo già fatto la prima vaccinazione. Per portarlo all'estero devi fargli due vaccinazioni. La prima gliela ha già fatta. È un calmante, ma il problema è che Tora, cioè, tenerlo fermo 13 ore in un posto è praticamente impossibile. In più, non è che fai 13 ore e siamo arrivati. Dopo le 13 ore si deve fare anche altre quattro ore prima che arriviamo a casa di Mako, c'è un bordello. E poi quello che mi spaventa di più è a casa di Mako che sua mamma lascia tutte le porte e le finestre aperte, il gatto scappa, ammazzo tutti, cioè, faccio una strage. Cioè, poi il Giappone scompare, non è più un'isola, fidati. Allora, poi sul giornale, l'italiano fa strage in Giappone per un gatto. Vabbè, faccio anche l'altro. Con il GPS lo trovi? Eh, con il GPS lo trovo, ma in montagna, dove cazzo lo trovo? Sediamo a... esatto, dovete sedare meno il gatto. Con il GPS lo trovo, ma se si infila dei... Cioè, praticamente, c'è una casa, poi ci sono risaie, e quindi tutte le risaie sono più alte di Torra, non lo vedrò mai se è lì. E poi montagne, robe varie, come cacchio lo ritrovi? E poi Mako fa, è contento, qua ci sono tanti gatti randaggi in giro, ho capito, sono gatti che vivono per strada, io non voglio che Torra viva per strada. Torra poi non è abituato a vivere per strada, è un gatto che è sempre stato in casa. Cioè, se lo porto Torra lì per lasciarlo libero, allora tanto vale che... Certo. Boh, vediamo, sono tante cose di cui devo discutere con Mako, o se no va lei là e poi quando Torra non ci sarà più, andrò io in Giappone, non lo so, vediamo. Al momento, la prima cosa è che devo trovare un lavoro, poi vediamo... cioè, che la situazione migliori e poi trovare un lavoro. Adesso come adesso non lo sto neanche cercando, sinceramente. mi interessa più ripassare il Giappone. Quanti anni ha Torra? Torra è giovane, a cinque anni, è appena compiuti a febbraio. Aggettivi na. Na kei o shi. Kei o shi. Kei o shi. Aggettivi na. Na 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 na. Life is life. Allora, forse non c'entra un cazzo quello. Allora, I maina, non lo so, vago, I maina, uno. I maina, I maina. I maina, i cata. Un discorso vago, cioè, confuso sarebbe. I cata. Sì, è giusto, I kata. Vago, confuso, vago, confuso. Un discorso non chiaro. Due, I kaina, mai sentito? I kaina, checca. Questo l'ho mai sentito. Ah, i gai, scusa, i gai, sì, ho letto. Infatti è uscito una cosa strana perché non ho letto giusto. I gai. I gaina, però è diverso il kanji. No, è diverso, scusa, i gaina. Un risultato insignificante, inaspettato, inaspettato, i gaina, inaspettato. Un risultato non voluto. Tre, Oshare na fuku, è un vestito alla moda. Oshare na fuku, questo lo so perché lo dicevo sempre ai clienti, è la moda. Oshare alla moda. Alla moda. Quattro, ostili, o stai, inaspettato alla moda. Cattena, codo. Decidere da sé, cattena, codo. Agire per i fatti tuoi, codo. Codo. No, codo. Questo non è l'aggettivo, è agire per i fatti propri, per cattena. Cioè non è l'aggettivo per noi, agire per conto, per conto tuo. Cinquos. Cocana, 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 Tokei, è un orologio brezioso. Cocana, è prezioso o costoso? Costoso o prezioso? Poi sei, sarebbe alto prezzo il canji. Cocu, Cocu, Saiteki, Cocu, Saiteki, che dovrebbe essere internazionalmente, è na shigoto. Cocu, Saiteki, no, Cocu, Saiteki, internazionalmente, 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 Saiteki, 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 dove sta il Saiteki? Non mi scrive Saiteki, non so se è inchiodato, salvo perché si esplode tutto adesso. Adesso esplode tutto! Adesso mi ne ha scritti troppo. Di Saiteki. Nana, 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 bello, Nana. È l'attrice che faceva Nana al telefilm, è una delle mie... Una delle... Live is life, live is life, live is life, when we all give, the power we all give, the best every minute, of an hour, don't think... Nana, l'attrice che è anche una cantante, è una delle cantate che mi piaceva di più, ed era anche gnocchissima, adesso si è fatta la plastica ed è un mostro. Shogikina, Kansu, Shogikina è sincero, onesto, Kansu è quello che pensi onestamente, Shogikina onesto, onesta. Ma perché si rovinano così? Perché sono stupide, perché pensano di diventare vecchie, si tirano la faccia, hanno tutte poi la stessa cazzo di faccia. Jobuna Kaban, Jobuna Kaban, la borsa fuerte, Jobuna Kaban, peccato, l'era proprio stupenda. Jobuna Kaban, la borsa forte, resistente, 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 nove, vuole le prove, Shiken, no, Shinken, Shinken è seriamente, Shinken, Shinken, Tido, modo di fare serio, Shinken, questo qua, ho sempre pensato che il signor Kahn, chissà che cosa, che c'è la serie. Lei è rimasta uguale al naturale. Elmi chi è? Elmi chi è? Non la conosco, Elmi. I don't know you. Non la conosco. Dieci. Shinken, l'unica ragazza che è rimasta uguale è Mizuko Rie. Taikutsu, cioè che non si è fatta la palastica, Taikutsu na Jugyo. Maria Giovanna Elmielle, annunciatrice. Ah no, non la conosco. Taikutsu na Jugyo. Noioso. Una lezione noiosa. Taikutsu na noiosa, che poi abbiamo detto, ma scusa, noioso l'hai già detto prima, sì, ma lo dicono in cento cazzo di modi diversi. Undici. Taisezuna Shashin, una forte importante, quello che sei tu, forse sei tu, fermati un istante, parla piano, Taisezuna Shashin, una foto importante, Taisezuna, quello che sei tu, importante, forse sei tu, dodici. Teinei, Teinei, na Setsumei, spiegazione dolce o gentile o, mette pulita, Teinei. Teinei com'è che lo posso tradurre? Una spiegazione dolce, delicata, facile, semplice, cortese, civile. Fermati un istante. Lo sai che faranno Sanremo? No, ma io, sono scemi, cosa fanno Sanremo a fare? Rispettosa, educata, educato, garbato. Cosa fanno a fare? Soprattutto a chi lo guarda, educato, garbato. Senza pubblico. Ah, ok, senza pubblico, ovvero. 13, senza pubblico, ovvero. 13, neshin na Shido, neshin na Shido, evoluzione, insegnamento, appassionato, neshin e appassionato, neshin, appassionato, bruciante sarebbe, però in questo caso è spiegazione. 14, fuanna, fuanna, fuanna è quando sei confuso, fuanna, sembra una mossa della scuola di Nanto. mai nici, cosa? Neshin, neshin no Shido, suau, probabile, neshin e mai nici, no, fuanna, mai nici. Appassionato. Tutti, neshin, sì, sì, neshin, fuanna, 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 fu maria, fu Giuseppa, fuanna è, non facile, però, fuanna, non è confuso, fuanna è non sicuro, a parte che ho scritto mai nici così e nessuno mi ha detto niente, tutti i giorni non sicuri sarebbero, fuanna è insicuri, mette non nici ma è insicuro, poi mette non facile ma è insicuro, 15, fu Gigi na Anashi, un discorso misterioso, fu Gigi na Anashi, come fai a sapere questa parola? Perché guardavo fu Gigi na Yugi, fu, fu Gigi na Anashi, che adesso non riesco a scrivere, perché non riesco a scriverlo? fu Gigi na, non mi esce? Oh, non mi esce il kanji? Ah no, era giusto. Sono due ore e tre minuti. Eh vabbè, ce l'ha, no vabbè, non è che non devo sgarrare dalle due ore, più o meno. fu Gigi na Anashi, fu Gigi na, misterioso, un discorso misterioso, o strano, o strano, sedici, sedici che si scrive col cinque in italiano, come sapete bene, sedici, Mudana do Ryoku, muda, 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 mudana, do Ryoku, do, Ryoku, no, ecco la ora, lo sapevo, do Ryoku, no, senza la ora, allora perché non ho uscito il kanji? Mi prendi per il culo? Sì, Mudana è inutile, inutile, muda, 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 17, Mendona, Mendona, cosa che non vuoi fare, Mendona, manca no, Mendona, Tetsuzuki, un documento rompivalle, Tetsuzuki, Problematico, Mendona, Mendona è qualcosa che non vuoi fare, però qua mette problematico, mettiamo problematico, di solito Mendoxai è una cosa che non vuoi fare, c'è una cosa che ti annoia, 18, Yutakana, Yutakana è abbondante, Yutakana Shizen, natura abbondante o rigogliosa, Yutakana è abbondante o rigogliosa, dipende dalla situazione, abbondante, rigogliosa, rigogliosa a chi? 19, Rakuna Shigoto, un lavoro facile, Shigoto, Rakuna, facile, 20, 20 che si scrive col 3, voi ben sapete, Wagamama è mia moglie, che fa sempre quello che vuole, Wagamama na Seikaku, è un modo di... 2, Mercing Wing, 1, Mercing Wing, cos'è Meri, cos'è Meri, Meri, non mi esce, mi esce la scritta, non mi esce il disegno, mi esce una scritta, no no, vai tranquillo, ma mi è uscita la scritta, ma anche su, sì anche lì è uscita la scritta, no vai tranquillo, pensavo che era un emotico, non era al posto dell'emotico, non c'è stata la scritta, Wagamama na Seikaku, è carattere, come si chiama, che pensi sempre da te, Wagamama è, com'è che si dice, egoista, egoist, 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 questa pubblicità la conosco solo io, allora Wagamama è egoista, Rakuna è facile, o easy, Yutakana, Mendona, Mudana, quella con i balconi, esatto, egoist, egoist, Fugigina, qua abbiamo Fuanna, Neshinna, Teinna, e ricordatevi che, vedete che la regola che abbiamo fatto, con la parola, con una parola attaccata, dovete mettere il Na, senza la parola, vedi non sei L unico, giovane qui, bravo, Taisezuna, ah è vero, che pirla, questo è Taikutsuna, Shinkenna, questo qua è sempre sbagliato, questo qua non sapevo mai che era serio, l'ho sempre sbagliato, pensavo sempre nuova spada, perché questo qua è anche spada, cioè si pronuncia anche spada, questo è Jobuna, che sembra Dai Jobu, Dai Jobu è questo, è Dai Jobu, Dai, grande Jobu, però Jobu è forte, sarebbe grande resistente, o grande forza, significa che stai bene, Shoji Kina è onesto, Kokusai Tekina è internazionale, Shigoto non c'è il cangio, non si sa per quale cazzo di motivo, Shigoto, e comunque era la regola che ho spiegato l'altra volta, e quello di Kendo, cosa? No, Dai Jobu una, Dai Jobu, 9, Shinken, sì, dovrebbe essere lui, aspetta, vedi, per quello, per me Shinken, nuovo, nuovo, nuovo metodo di usare la spada, invece, significa essere serio, l'ho sempre tradotto, all'epoca lo traducevo così, spiegato perché guardavo Kenshi, le robe varie, allora, Katte, Katte, anche questo è vincere, mano, e viene fuori, agire per conto tuo, quindi, cioè, non ha senso, cioè, quel discorso che facevo sempre, che il kanji, con quello che poi esce fuori, non ha senso, questo ha senso, fuori dalle idee, ci sta, però, a volte, quando trovi il kanji, che non c'entra niente, io me li sbaglio, perché vado a leggere il kanji, capito, e mi dà un risultato diverso, da quello, anche questo qua, Tai Kutsuna, Tai lo so, ma Kutsuna lo so, e quindi, farei fatica a tradurlo, se lo trovo, sicuramente, Teinen, ormai l'ho letto mille volte, l'ho imparato, forse, però, vedrete che sbaglierò, allora, uno, esercizio, Kako no shippaio, omoidaste shimau, ah no, questo è un altro, stavo facendo l'esercizio, dell'altra pagina, infatti, ma che cazzo c'entra, non è un aggettivo, ok, Nitsu novanai de, Tsukawa naide, allora, non usarlo per i fatti tuoi, Katte Nitsu kawa naide, ma tipo, queste cose qua, per me, sono cose che tu sai, se sei in Giappone, o se parli con i giapponesi, cioè, io lo so questa frase qua, perché l'ho saputa mille volte, però uno che non lo sa, non può saperlo, Katte Nitsu kawa naide, pam, come l'aveva scritto, Tsukawa naide, Udasai, non usarlo per, cioè, non usarlo per i fatti tuoi, cioè, che hai deciso tu, però questa cosa qua, io la so perché la so, e comunque vedete che con il verbo, sarebbe Katte na, con la parola, però col verbo, di Katte Nika, è quello che abbiamo fatto, negli esercizi, degli, degli esercizi, per i principianti, quindi, è sempre per ricordarvi, che quello che state imparando adesso, è molto, molto, ma molto importante, per il vostro futuro, in Giappone, o anche non in Giappone, è il commesso, è gentile, sarà, il commesso, parla sempre in modo garbato, certo, perché ti vuole rifirare, monnezza, tre, Minna, Minna, Ni, Renxu, Steiru, Neshin, Mendo, Fushigi, Neshin, tutti sono impegnatissimi a fare gli esercizi, Ni, Renxu, a fare pratica, Renxu, Steiru, tutti stanno facendo pratica, impegnatissimamente, conosciamo come, fissamente, Motto, Motto, Shorai, Shorai è futuro, quello che dico sempre io, il mio futuro che ormai sta sparendo, Shorai, Ni, Sui, Te, riguardo al futuro, Sui, Te, Minna, San, Chioi, Suruyo, tutti bocciati, Shinken, Shinken, pensaci seriamente, Minna, San, Chioi, Suruyo, Chioi cos'è che era? Ah, Chioi bocciati, vero, Shinken, Ni, Kanga, Kanga e Masho, Kanga e Masho, pensiamoci tutti seriamente al nostro futuro, bravo, questa è una cosa giusta, e comunque ripeto, se vedete qua c'è aggettivo na più parola, e qua sotto è l'aggettivo na più verbo, che è quello che vi ho insegnato io, Osharena, Megane desne, Wagamama, Aimaina, Aimaina cos'era? non me lo ricordo già più, Aimaina era vago, no vabbè, Oshare qua, hai degli occhiali molto alla moda, Oshare, Oshare, na, Osharena, Megane desne, hai degli occhiali proprio alla moda, Megane qua me l'ha messo così, però si può mettere anche cos'è, io metto cos'è perché mi piace scrivere in giapponese, Megane desne, sei, qua dovrebbe essere kokana, kokana pure esento, però potrebbe essere sbagliato, ho ricevuto un presento molto costoso, o moratte, odoro ita, e mi sono meravigliato, odoro ita, odoro ita, poi sette, taikutsu na eiga, taikutsu na eiga, mendo na eiga, taikutsu, taikutsu na eiga, era un film noioso, taikutsu na eiga adatta, era un film noioso, otto, iega, chikai, la casa è vicina, chikai, node, tsukin, tsukin è andare a lavoro, questo non me lo ricordo mai, 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 lo so ma non me lo ricordo, cioè nel senso non mi dà l'idea che sto andando al lavoro, per quello non riesco, tsukin ga, rakudane, abito vicino al lavoro e quindi andare al lavoro è easy, rakuda, nove, penso poi magari signor che è un'altra cosa, shiteiru, shiteiru koto, quello che sai, shiteiru koto o shoujiki, questo è, dillo sinceramente, non guardo nemmeno, shoujiki, ni anashimasta, anashimasta, ho detto onestamente quello che so, che sei un cretino, jobu na kodo ni sanka, atene, kokusai tekina, katsudo, kokusai tekina, kokusai tekina, kodo, attività mondiale, che non si scrive, katsudo, era scusato, non era katsudo, ni sanka, ho partecipato a un'attività internazionale, sanka, shita, e anche qua è sanka osuru che diventa sanka shita, perché non si sa, allora qua ho messo kokusai tekina, e poi scopriamo se è giusto, shoujiki, poi raku, questo è tai kutsuna, poi abbiamo messo coca, questo non so se è giusto, però lo scopriremo, vabbè c'è il na, però si vede, ossa re, ossa rena, shinken, serio, ossa re alla moda, nenshi, ce l'abbiamo messa tutta, ci siamo impegnati, impegnarsi, teinei è in modo educato, garbato, mi ha mandato a fancubo, allora, correggiamo l'eserzazio, vediamo se è giusto, e poi ci si salutazze, ci rivediamo tra tre ore praticamente, il tempo di lavarmi kintama, forse mi taglio anche i capelli, ciò caldo, devo fare anche la lavatrice, devo fare un sacco di roba, non lo so, adesso lo vedo, allora, gli eserzazi, eserzazi, dove sono gli eserzazi? Allora, stiamo facendo aggettivi in A, B, A, B, C, A, non me li ricordo i nomi, B, A, B, B, catte, giusto, A, teinei, B, eneshin, giusto, 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 poi, C, C, A, C, A, C, A, C, A, C è Shinken, A è Oshare, C è Coca, E A è Taikutsu, Oshare, Coca, Taikutsu, Mr. Joe ha rinnovato l'abbonamento, che senso? Non ho capito, adesso? Non ho capito? Non mi è uscito niente? Mi spunta così. Grazie, non mi è uscito niente, non lo so. Thank you very, grazie Joe. Però non è partito niente, mi sa. Eh, non è partito un Kaiser. Per quello ti... No, è acceso. Dopo andiamo a vedere su Streamlab, perché? Grazie, scusa che non ho detto niente, ma scusa perché non è partito l'alert. Dopo lo vado a cercare. Non va alle allarme? Eh, mi sa di no, però è acceso, l'ho guardato adesso. 8, non ho guardato le risposte, quindi non potrò rispondere. L'8 poi abbiamo BAC, BAC, B, Raku, giusto, B, A, Shoujiki, e C, Kokusai Teki. Questo l'ho fatto giusto, ok. Vado a vedere perché non è funzionato sto robo. Streamlabs, perché dovrebbe partire da Streamlabs. Accedi, non lo sono mai acceso. Twitcho, ah, non è collegato, non sono collegato, perché non sono collegato. No, sono collegato. Com'è che faccio a vedere gli ultimi avvenimenti? Boh, com'è che si fa? Avvenimenti recenti. Non c'è niente. No, l'ultimo è quello di, l'ultima cosa recente è questa. Non mi è proprio uscita. No, non lo conosco. L'ultima cosa esistente è questa. non me l'ha messo. Comunque grazie. Ah no, ma anche Proto ha fatto la, ha fatto l'iscrizione. Ma non è uscito neanche questo. non è uscito neanche questo. Oh, chiedo scusa, non funziona un cazzo. Ma in quello di Joe non c'è. Cioè, magari lo fa vedere dopo. Comunque ti ringrazio lo stesso, mi dispiace che non è uscito nulla. Boh, è Streamlabs che ha le sue cose, non dipende da me. Giuro, questa volta non c'entro niente io. Allora, ok, ci si vede tra poco. Vi spedisco da nessuna parte, perché non vedo nessuno. Doitashimaste. Se vedete qualcuno on, ditemelo che vi mando da lui, che conoscete. Afrafe. Se no, niente. Doitashimaste. Io non vedo nessuno che conosco on, quindi non vi mando a nessuna parte. Ci vediamo più tardi. Moilin. Neanche io. Ok, allora dopo. Grazie ancora a tutti. E poi niente, ringrazio anche Proto. dopo gli scrivo, perché non l'ho ringraziato. Ad Opus.